ben ritornati sul mio canale ragazzi non sono assente su youtube ma è semplicemente il motivo sto provando a far più di una registrazione durante quest'anno dall'inizio dell'anno e c'è mi si sputtana qualcosa l'audio o il video e sono e non riesco a capire c'è perdo l'acquisizione di qualcosa a metà video sperando me lo faccia ancora ma non la faccio un video un video a una verifica che alla fine sto giorno nemm portava fatto metto un livello dannazione dal città con gio a che controllo e videocamera e tutto sia a posto il mio setup è questo ormai ho lasciato coltello e mitragliatore lancia fiamme ci ho perso la mano lo usavo spesso ma ho perso la mano io non sto a spiegare i talenti tanto è roba c'è parte spiegati malissimo tra tutti veramente male però ma che che per fregare dei talenti faccio dei gameplay e quello altro c'è la paranoia ragazzi bisogna controlli sta cazzo di fotocamera dio puttano brutta troia non ti spengere recuperate le scritture in un tier 5 voglia no oddio le scritture si e i grimori non l'ho già portata questa mappa non me lo ricordo coltello non l'avevo portato ma è l'arma che uso di più alla fine ho sempre usato il coltello nel video che feci portare l'ascia ma non è l'ascia il coltello è un'arma abbastanza riesco a seccare anche questi che sono normalmente sembra strano ma c'ho dei perk sul coltello mi permettano d'avere perifrazione armatura su questi grossi cosa che un'ascia normale o quella che sapevo non te lo fa cioè è un paradosso ma gli ammazzo meglio col coltello che con l'ascia e questa a mio parere è la mitraille più forte del gioco c'è di meglio la CET non usa la mitraille più forte no può così non esploditi prego vai brutto madonna ho detto me lo so ho visto esplodere chiuso al tempo della serie acce ora eh arrivi spenta ma vaffanculo eh c'avevi ragione ragazzi c'ho problemi con la merda questo è quello che davanti ci è c'è un attacchetto a fare ora già mi tocca attaccare parte del colso con l'altra come fa chi l'ha premuta sto spanchi? chi t'ha spento? ti è vicino a che cazzo? ma com'è possibile? eh cool fammi vedere per capire vaffanculo oh no i got some gun Ok, ma non nemmeno armi a posta per se caldi? Ehi, ehi, ehi! Eh, meglio lui allaccia a freno Siete un cane? Se ci avessi anche un sistemo per il campione baffo Dove sei? Dici l'arma più forte di ciò? Poi... Giappa nemmeno Vai Beh che hanno aggiornato? Si fa vedere il che raccatta la gente Buona sapesse Fa piacere Oti Sì God Emperor save me And give me ammunition So che mi può a curare eh Non mi ricordo dove stavano pure Ma c'era Cane Sa che viene a cercarmi Questa, magica Dio C'è ma la robustezza rimane proprio bloccata se sta uscindendo La barra blu Oh, questo Brutti signori C'è la merda Breve shake Ok Eeeh Rompicazzo 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 Rombicazzo c'hanno l'armi ma è come se non ce l'avevi va bene aspettiamo qua ha qualcosa che potete trovare basta ma eeeh nulla eh oh ma dove sei? ah troppo dietro che strozzo e cross e non lo vi arco nemmeno oh eeeh merda merda joseph la cerda muchas gracias hombre merda 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 E che è di nuovo? Un orgasmo Titta dio cazzo via E che cazzo Dai ragazzi che panno Questo c'ho la scatola lì dentro Che bozza Ma intanto che vi serve ragazzi Usate tutti i bastoni Il coso, l'abilità magica Ma per me basta Tuttavia, molti voci Oh, credo che ci abbiamo ucciso Il troppo Ma questo punto malefio C'è sta porta E' un po' di destra Ora Credo che ci sia il momento di ucciso Sì, sono il progetto per la scuola! Beh, andiamo a ripigliarlo. Ahahahah! Tu, tu? Tu, da dove cazzo esci? Oh! Oh! Porca, mi stava sparando mentre ricarico... Cioè, la situazione proprio... Sta ricaricando il mitragliatore, in realtà, questa. Ok, questa parte è malefica, ma proprio malefica. Stare esposti qui... Cioè, qui ti sparano da tutti gli anni. Proprio morire... Sembrerà una puttanata, ma fu prima a fa così, eh? Cioè, gli vai addosso... Tanto non lo so spiegare, ma guarda... Mi ha detto, va, fa... Cassino! Così, sì, putta tutto, si apisce un cazzo, non importa. Vai, vai, vai! Te affetta! Te affetta! Te... Vai lì! Tanto inutile star lì sulla terrazza a sparare... Tutto ammazza! Meglio si va, venga a cercare tutti! Vaffanculo! Oh, molto più, eh! Sto cazzo di punto di merda! Sto... Sto cazzo di punto di merda! Sto cazzo di punto di merda! Eh, te, te... Un cascavo... A bischero! Va bene, allora... E allora, grazie... E allora va a far culo! Porco di Dio demonio! Sto cazzo di input! Sta parte di... Sta parte di merda! Proprio tutta terrazza! Basta un'esplosione per volar di sotto! Uccidenti Do sono Tanto vale No controllare Andiamo a rimettere Madonna Un troiaio Tra l'altro non voglio nemmeno farlo tanto lungo il video perchè mi ci metto un casino con la qualità graffia più alta A renderizzarlo su Youtube Provi da Ore Guarda Oh patch Patch Punto 5 Sto gioco non l'hanno cagato Non l'hanno aggiunto nei classi Solo mi fare un par d'armi 9 Ma roba ormai dell'anno scorso E niente E che vanno ad aggiungere I blessings del Del manifactor I crafting delle armi Che Vabbè La 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 I Tizio Hai il sempronio e raccattano materiali Io ragazzi Un gameplay Una mappa nuova O Qualche arma nuova O la La famosa Una classe nuova Sono sempre Le quattro base Cazzo Per mintire Ne aveva 4x4 Ah Ne aveva 16 E questo ce ne ha 4 solo O 15 Non so se la 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 senna Gli hanno aggiunto la classe finale Il 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 Ma L'ho L'ho Il L'ho Il 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 di sotto te mi stai sul cazzo ah che buono non la dai liscia cioè starmas smette a fare guarda quando la tiri fuori gli fa le carezze premere il grilletto qui sta in questa situazione stiro un picazzo ma come fanno a parassi anche gli spari laterali basta c'è la foto dai schianta schianta e basta eccoci in mezzo alle fiamme oi oi eh sono un po' distratto mamma ammazzare a questo più che fa rimborsi non ho acceso la cosa è come sono morto prima ma loro non ma sono tre no c'è uno zelosa tutto bianco munizioni granate nulla cioè proprio non c'ho bisogno che cazzo usano breve check buono don't dispensere spero anche la registrazione osa qui mi cura questo la piglio io colpo pesante il colpo pesante ti prego dai oh deploy data internazionati hyperbaric pressa try not to die oh dear the barrel data interrogation rate cani c'è un po' troppa merda al cielo di percola 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 . 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 Sì. esplode sti barili ops! ho acceso il barile, cazzo oh oh drop a start guarda qua guarda qua guarda qua il Poi che ci sono? Non c'è più, ma più! E non ho l'ho! Sì! 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 Poi che ci sono? Sì! Ecco! Sa le scale! Sa le scale! Un cane! Si sta avvicinando Da cazzo sei! Eccolo! Eccolo! Hai finito di ricaricare? Cazzo! Ma deve... Poi voglio dire... E' questo gesto del cazzo! Di tirare indietro la cosa! Ma se c'è... Se c'è rimasto un colpo o una munizione Il colpo rimane nella canna Non c'è bisogno di buttarlo via! Cambi solo il caricatore! Ho sbagli! Però voglio fare... Professionista un... Non... Non mi intendo darmi! Non mi intendo darmi! Finito! Io guarda... Non... Non... C'è... Non sai che c'era da fare ragazzi! Io queste mappe non ho mapite... Oh! Qua! Mentre sto ricaricando... E tappare... Non ho preso davvero... Lo ho preso davvero... Va bene! Non mi è finito! No! 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 Cazzo! Guarda! Do meriti a loro! E hanno finito... Hanno completato le missioni loro! E hanno trovato tutto loro... Crimo... Non crimori... Le scritture! Quanti di ho... Quasi carriato! Insomma! Va bene! No! Tier 5! Che è la massima difficoltà! Arma oro! Eh! Damogli un occhio! La felicità è l'illusione dei deboli! Guarda! Scrive tante cazzate! Ma guarda! Questa... Te la posso anche passare! La felicità è un'illusione dei deboli! Dipende come la interpreti! C'è... C'è pro e contro a dire una cosa del genere! Secondo me! Dipende come la interpreti! Io personalmente ti dico... Ma la provo anche! Eh... Ho trovato questo... Rebustezza... Resistenza danni... No! Questo... Io c'ho... C'ho 17% Ora ne ho un 2% che mi cambia tanto! Però... Sono 3! Se c'ho qualcosa in più... Posso anche buttarlo via! Oddio! Resistenza a corruzione non è male! Ve lo tengo! Anche perché qua... Non c'ho nemmeno... Un oro! Boh ragazzi! Io c'ho da mettere e meditare... Sta roba! Tanto porterò un'altra missione! Tanto c'è... E' grassa se riesce questa! Quindi... Vediamo dai! Poi porterò... Eh... Pirexia o BB1... O BB2... Quello! E se appena fa un po' di... Monete! E... Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video! Spero presto! Ci vediamo presto! Ciao!